Voglio cominciare questa live in questo momento su Occhiali Neri, il nuovo film di Dario Argento Scusate se rifaccio la premessa Sarà una live un po'... Cioè non aspettatevi che io vi dica bello o brutto Perché qua il film di Dario Argento che ringrazio mi apre un tema per fare una lunga... Un lungo proclamo su quello che penso io del cinema Ok? Ovviamente io arrivo che l'hanno già visto in tanti questo film E si sono espressi Il problema è che molti, ma quasi tutti si sono espressi La maggior parte senza dare delle motivazioni si sono espressi negativamente Cioè hanno detto questo film hanno usato degli epiteti terribili I soliti che vengono usati da la marmaglia Quindi cose del genere tipo fa cagare Ridicolo, vergognoso, bla 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 Tutta una serie di parole che sarebbe meglio usare con molta parsimonia E invece vengono usate fin troppo Mentre invece gli articoli che parlano in modo positivo del film Stranamente hanno delle motivazioni Esplicitano delle motivazioni e dei ragionamenti Ma prima di entrare in quello che io penso È d'obbligo il momento pubblicitario Quindi sappiate che potete abbonarvi a questo canale Per sostenerlo Potete farlo o con 4 semplici euro o 3 euro Non so quanto costi al mese O con Prime potete abbonarvi gratuitamente a questo canale Il film di Dario Argento Lo contestualizziamo un attimo Arriva dopo 10 anni Da l'ultimo film Che era Dracula 3D Che purtroppo non ho visto Il soggetto è rispolverato Da un cassetto Da una pila di libri Insomma afficcato da qualche parte Asia Argento Che io me la immagino che sgrufola tra le cartacce Dice Troverò un film di mio padre È bellissimo Trova questo trattamento Non so se fosse già un trattamento O una sceneggiatura Comunque lo trova Ci rimette Lo propone al padre Il padre che è ricettivo su queste cose Dice ok dai Insomma ritorna a fare i film Ci rimette le mani Era ambientato negli anni 90 Viene riambientato negli anni Oltre 2000 2020 Di cosa parla? Ambientato a Roma ovviamente C'è un eclissi solare Inizia così Ragazzi che vi devo dire? C'è una ragazza che Fa la prostituta Che viene aggredita Con un furgone Ciao la Stefi Viene aggredita Fa un incidente Perde la vista E il suo compare di avventura Questo bambino cinese perde i genitori Fine Non vi dico altro Sulla storia Perché non è una storia estremamente profonda Quindi è importante Tenersi un po' indietro Con gli eventi Voglio vedere con voi il trailer però Vi sto Vi sto tenendo sulla graticola Proprio Vi sto Facendo friggere Proprio Però vi assicuro Che ne varrà la pena Ne varrà la pena Perché parlare di questo È importante Quanto è importante Se questo film mi è piaciuto O non mi è piaciuto O se lo ritengo valido O non valido Cioè è veramente così importante Oppure Ci possono essere anche tantissime altre cose importanti Di cui Di cui possiamo parlare Proprio Usando lo spunto del film di Dario Argento Importantissimo Importantissimo Scusate Vado un attimo su Youtube E cerco il trailer Uncchiali neri Per me è importante il trailer Perché mi serve Per rimettermi nel mood del film Tanto ho dei rumori di stomaco Qualcun attimo La musica E Salto l'annuncio Vai Tac Trailer Era salita in camera Di un nostro cliente Prima di lei Sono state tre vittime Tutte prostitute Che cosa si ricorda? Ha detto che è stata inseguita in macchina Come si sente? Non lo so, è tutto buio. La riabilitazione ti renderà autonoma. E cosa vedi? Una ragazza che corre con le cuffie. Un furgone bianco patteggiato. Cosa? Un furgone bianco patteggiato. L'unico sopravvissuto è un bambino di 10 anni che si trova in un istituto d'accoglienza. Posso aiutarti? Hai il furgone bianco? Hanno ammazzato due polizonti davanti a casa tua. Rivedendo il trailer mi viene da dire una cosa. Così, proprio mi viene da sputarla fuori proprio così. Ma come cazzo si fa a dire che la regia... Cioè, io ho sentito gente dire che la regia fa schifo. Purtroppo, purtroppo i social stanno dando veramente voce a troppe persone. Troppe persone che non sono altro che persone. E nient'altro. Cioè, non hanno nessun tipo di credibilità. E' veramente assurdo trovarsi magari uno YouTube dove tu scrivi occhiali neri, recensione. E ti viene una sfilza di gente che ovviamente vuole fare la corsa a fare le views. Perché questo è quello che importa. Capire i film non gliene frega un cazzo. La corsa alle views e vedrete una sfilza di persone che insulta il film già direttamente dentro all'anteprima dicendo che merda, vergogna, vergognoso. Qualunque epiteto... Ciao... Eh sì, Mirko, scusa. Qualunque epiteto per fare views, per avere... Però il problema qua è che io ho sentito persone addirittura e prese talmente tanto dalla loro voglia di distruggere il film addirittura definire, definire dei film di Dario Argento come Suspiria, Profondo Rosso, eccetera, eccetera definirli buoni film. Definire i film di Dario Argento i capisaldi del cinema horror mondiale questa è una cosa che non è ancora chiara che non è ancora chiara ai vari youtuber che insomma pensano di poter passare da parlare di Minecraft a parlare di Dario Argento con questa tranquilla semplicità, no? Ecco, non vi è chiaro l'importanza dei film di Dario Argento con anche i loro difetti per questi film parliamoci chiaro, non sono perfetti diventano perfetti nel momento in cui diventano degli idoli sacri che le persone adorano io non sono così, chiaramente ho sempre dichiarato che sono per dissacrare piuttosto preferisco essere obiettivo su quello che vedo ma una cosa, questa cosa che vi dico non è rendere sacro è la fottuta verità cioè i film di Dario Argento Profondo Rosso Sospiri eccetera eccetera non sto qua a fare l'elenco dei gatti, cose trilogie degli animali eccetera sono capisaldi e fondamentali per la crescita del cinema horror degli ultimi 50 anni e anche di... no, 50 esatto, 50 anni perché lo dico? perché ogni volta che mi ritrovo a fare una recensione di un film nuovo di un bravo regista con buone idee e un grande gusto mi ritrovo persone, registi che dicono i miei maestri, le persone che mi hanno ispirato sono Dario Argento, Mario Bava, Lucio Fulci eccetera eccetera quindi ragazzi questo deve essere un punto fermo su cui nessuno deve più permettersi di dire ha fatto anche dei buoni film cioè tu ti devi prendere e ficcare in bocca una patata e metterti in un angolo e stare zitto perché stiamo parlando di Quentin Tarantino Pascal Lager giusto l'altro giorno ha fatto la recensione di Sant'Ange cita Dario Argento insieme anche Bava eccetera quindi questa qua deve essere un punto fermo di questa disamina di questa conversazione, di questa discussione su il nuovo film di Dario Argento questo è il punto quindi già che tu inizi a fare una recensione del genere hai capito niente cioè proprio devi prendere e cancellare il tuo video e andartene via lontano poi i film di Dario Argento non sono mai stati privi di difetti non sono mai stati io spero di aver attivato il microfono perché non ho guardato ciao mute non ho guardato se l'ho attivato i film di Dario Argento non sono mai stati perfetti non hanno mai avuto sempre un cast di attori eccezionali quindi se oggi sono apprezzati da i pecoroni è perché i pecoroni leggono sulle recensioni che il maestro gli va riconosciuta la sua bravura non stanno manco a chiedersi perché per come ok leggo un attimo i commenti perché non vi voglio neanche ignorare troppo infatti in A Classico Horror Story De Freo denuncia questa gente che commenta fin tanto per avere views esatto esatto bravo Tom aiutatemi anche voi a dipingere questo quadro il giudizio estetico credo che possiamo azzardarlo anche attraverso il trailer apprezzo l'artigianità che non scende a compromessi con l'aiuto smonato della tecnologia allora c'è una cosa apprezzabile di occhiali neri e questo è già un punto a suo favore non c'è un filo di CGI questo dimostra e lo dico perché il film è un film che non considero assolutamente un fallimento non considero un fallimento c'è un film che non andava fatto anzi non ha un filo di CGI questo è un grande messaggio di un grande maestro di una persona di 81 anni quindi una persona che possiamo considerare un nostro saggio della tribù si possono fare i film senza CGI si possono fare i film con un po' di vernice come ha sempre fatto lui un coltello è un Sergio Stivaletti così qua e là che ti aiuta a fare gli effetti speciali questo è un bel messaggio che il film manda ora entriamo più nel film dopo che ho diciamo vi ho spiegato qual è il quadro della situazione riguardo al giudizio che viene fatto su sto film perché è un giudizio inconsapevole perché se tu mi parli perché le persone chiaramente hanno evidenziato una cosa riguarda occhiali neri cioè che la recitazione e adesso quando lo dico faccio una generalizzazione su tutti gli attori di tutta la pellicola quindi dall'inizio alla fine facciamo di tutta l'erba un fascio la recitazione non è una buona recitazione ok? su questo io mi sento di poter dire che sono assolutamente d'accordo se dobbiamo valutare la recitazione in questo film la recitazione stenta non è completamente non è completamente da bocciare diciamo non è completamente un fallimento però è una recitazione davvero ricca di problemi difetti errori e incertezze incertezze però mi viene da dire una cosa li avete visti i film di Dario Argento che sono doppiati poi tra l'altro mi sembra molti sono doppiati cioè la recitazione è sopra vi sembrano tutti perfetti? vi sembrano tutti recitati da Meryl Streep e Robert De Niro? vi sembra quello? perché non è così quindi se tu ti stupisci di questo vuol dire che non hai ben presente qual è la storia dei film precedenti o semplicemente quelli precedenti ti vanno bene perché sono diciamo consacrati in quanto capolavori e quindi tu muto non hai il coraggio di dire la tua opinione no beh ciao Pennywise leggo tu come non è forse più colpa del reparto audio cosa vuol dire? la recitazione è anche il reparto audio nel senso che questo è un film doppiato cioè nel senso è un film che in parte è doppiato e non ho capito bene se in parte è in presa diretta perché non mi è chiaro di sicuro ci sono delle parti doppiate che sono state aggiunte in seguito e sono particolarmente slegate hanno questo difetto di essere particolarmente slegate sembrano proprio aggiunte malamente poi quindi c'è una una fase di montaggio audio non troppo convincente la colpa del reparto audio è troppo generico cioè nel senso può voler dire tutto se poi sei più specifico entriamo anche nel merito gli attori allora aspetta un attimo gli attori tu dici però magari gli attori sono bravi il doppiaggio a parte che non mi piace che usiamo questo linguaggio però hai fatto bene a sottolineare sta cosa no perché sono doppiati da loro stessi cioè gli attori questi attori nei punti io non ho allora lo dico senza figurati può capitare anche a me quindi se lo faccio potete anche tranquillamente dire però non è giusto parlare in questa maniera va bene ci sta ve lo dico con tutta l'umiltà del mondo mentre lo vedevo non mi era chiarissimo se c'erano delle parti in presa diretta di sicuro c'erano delle parti doppiate se loro si doppiano cioè se loro sono doppiati si doppiano con la loro voce quindi sono loro i responsabili della recitazione che sia quella corporea fisica espressiva che sia quella del doppiaggio che è una recitazione anche quella perché caspita ci metti un tono un'inflessione cioè è importante recitare bene anche quando si doppia però non è convincente assolutamente quello che voglio dire io però siccome il doppiaggio scusate la recitazione quindi il parlato la recitazione parlata è uno degli aspetti più negativi di questa pellicola che viene spesso usato dai detrattori di questa pellicola per dire che è un film inaccettabile mi trovo d'accordo su questo punto cioè sicuramente è un film che da quel punto di vista poteva essere migliorato ma mi viene da dire non non a che cosa eravate abituati argento non è che avesse chissà quali prove attoriali nei suoi al qualcuno sì ma ma non tutti cioè c'è sempre il commissario che arriva e recita malissimo in questi film ragazzi perché non non sono tutti di primissimo livello gli attori capito non è che sono tutti e questo è un punto interessante allora da questo punto di vista io sono d'accordo poi però non mi sembra giusto far di tutta l'erba un fascio alcuni attori sono convincenti bravi altri sono un po' meno bravi altri hanno meno esperienza altri vengono da tutt'altro mi viene da dire che però scusate mi prendo qua Ilenia Pastorelli che era il famoso tasto dolente cioè tutti avevano paura di come recitasse Ilenia Pastorelli devo dire la verità che secondo me Ilenia Pastorelli sicuramente non è un'attrice da non è un pezzo da 90 se si parla di recitazione sicuramente in Italia il livello degli attori è molto scarso perché lavorano sempre gli stessi non c'è competizione c'è tutto una umba umba lavorano sempre con i 4-3 non ci potrà mai essere miglioramento della base di attori italiani se ci sono sempre queste mafiette quindi è molto difficile che ci sia competizione che ci siano tanti attori buoni tra cui scegliere lei sicuramente non è un talento innato e secondo me per quelle che sono le sue potenzialità addirittura mi viene da dire che è stata brava cioè per quello che poteva fare Ilenia Pastorelli qua ha fatto il massimo e io mi sento di promuoverla per quanto il risultato non sia eccelso ok stiamo parlando di un'attrice che ha comunque gestito un film dove fa la cieca e fa la cieca e sembra cieca ragazzi a me sembra sembrata cieca secondo me teneva veramente gli occhi chiusi per riuscire a immedesimarsi nella cecità perché ogni cosa che faceva io avevo l'ansia che questa poveretta andasse a sbattere da qualche parte o che pigliasse uno spigolo cioè empatizzavo con lei ma questo è un altro discorso questo è un altro discorso molto importante sulla valutazione di questo film cioè il discorso del che cosa argento ha voluto portare in questo film che nessuno se ne accorta cioè qualcuno se ne è accorto qualcuno che ha scritto cose buone se ne è accorto però ne parliamo dopo leggo un attimo i commenti poi andiamo avanti comunque direi che sulla recitazione già abbiamo detto alcune cose importanti cioè magari ok scusa io dopo la maxi delusione del cartare ho paura di vedere questo film nonostante l'amore per Dario che dura da sempre allora io penso che tu dovresti fare un accordo ti faccio psicoterapia io in 4 4 minuti in realtà 4 no perché mi dilungo sempre ti faccio io la psicoterapia è la mia filosofia di come vivere il cinema tu devi essere amico di Dario non puoi essere così intransigente non ti è piaciuto il cartaio amen questo film lo guarderai non ti piacerà amen non succede niente mute non succede niente non muore nessuno vuol dire che non ti è piaciuto stai sicuro che se c'è qualcosa di valido le persone competenti sapranno esplicitarlo nei luoghi opportuni siti internet riviste giornali e quant'altro quindi non non ti preoccupare non non importa cioè stiamo comunque parlando di una persona di 81 anni che ha fatto un film horror thriller giallo all'italiana un un giallo con con scene cruente cioè è la sua chiave cioè il giallo thriller con scene gore quindi è proprio il suo marchio di fabbrica a 81 anni senza usare un cazzo di effetto speciale in cgi che mo lo usano anche per lo spot dello yogurt con niente ha fatto un film che poi sia un film che ha dei difetti su questo non ci sono dubbi ma tutti i film ce li hanno tutti i film ragazzi ce li hanno come le persone quindi non vi preoccupate non vi preoccupate l'importante e qua poi si apre anche tutto un discorso che ho già fatto l'importante è cosa noi riusciamo a cogliere dei film perché qua è sempre il tema è sempre quello sbagliato cioè se il regista ci ha deluso o non ci ha deluso ma il regista non fa il film per noi il film lo fa per sé è questo che gli spettatori devono imparare a capire monè manè infatti non facevano i quadri per gli altri li facevano per sé stessi e infatti li facevano come cazzo e volevano farli e poi gli altri si scervellavano per capire se erano belli o brutti ma intanto loro erano dei cazzo di geni quindi il punto è quanto noi possiamo apprendere da questo film nonostante abbia dei difetti e ci sono delle cose valide in questo film è quello il punto in cui io voglio arrivare citazione da Walter White ho fatto tutto questo per me stesso e è così è così non c'è cioè è un'illusione è una mera illusione sai chi sapete chi vi fa credere che il film è stato fatto per voi a parte i film commerciali fatti puramente sulla carta per soldi come gli Spider-Man o a parte quelli tutti gli altri sono chi vi vede il biglietto che vi fa credere che questo film sia fatto per voi fatto per appagare il vostro non è vero non è vero anche il regista il regista non vuole che a voi piaccia vuole che qualcuno gli dica sei un genio questo vuole e poi tra l'altro secondo me i veri artisti se ne fregano se ne fregano totalmente di che cosa pensa la gente perché che cosa pensa se io faccio qualcosa che cosa me ne può fregare a me di che cosa pensa la gente se io sono convinto di quello che faccio oltretutto io dico una cosa è molto interessante parlare di cinema nel momento in cui si osserva il cinema non nel momento in cui lo si giudica senza pietà e senza osservarlo perché quando una persona ti dice che questo film ha una regia schifosa è ciecato completamente è completamente cieco perché questo film che ha dei difetti ha una regia che se la sognano in Italia trovatemi un cazzo di regista che fa che fa un film così che fa un film così un film dove c'è una scena di incidente stradale che sembra vera una scena c'è una scena in cui Rita interpretata da non è spoiler perché tanto non lo riuscite a connettere insomma un personaggio si incrocia con un altro su un viale sempre in macchina e c'è una scena action pazzesca di super suspense ci sono inquadrature bellissime le vedete anche nel trailer ragazzi cioè ve le faccio vedere si vedono poco nel trailer ma vi faccio vedere nel trailer allora senza parlare della meraviglia e questo non è spoiler perché all'inizio della meraviglia della poetica e della meraviglia delle scene dell'eclisse iniziale le scene dell'eclisse iniziale sono meravigliose vi accorgete anche solo da guardate solo dalla carrellata nel corridoio quanto è bello sto film dai cazzo cioè tutto si può dire tutto si può dire che tranne che argento non abbia guardate ci sono delle sovrapposizioni di immagini ci sono dei dai cioè poi dopo verrò anche un po' vi dirò anche un po' quelle che sono le cose che non sono fatte bene boh cioè guardate qua adesso qua non si capisce bene perché sono sono parti estrapolate cioè se non sei ma anche solo questa cioè queste sono questa è lei che cerca di riaprire gli occhi e poi c'è il controcampo con lei quindi quando apre l'occhio c'è lei stessa allora poi ci sono chiaramente delle scene assolutamente normali con inquadrature normalissime voglio farvi vedere alcune scene come quelle finali che sono sono belle questa per esempio cioè guardate qua questa adesso si vede poco nel film si vedrà un po' di più ma non lo so fate voi anche c'è addirittura alcune scene in cui ci sono i cani dentro le gabbie che tu guardi la composizione e dici ma cazzo ma te lo sogni te lo sogni te lo sogni in Italia che la gente faccia delle riprese di questo genere quindi non è perfetto non tutte le inquadrature tutte le cose sono bellissime ma è un film che ha una una qualità e un è una personalità che è un fottuto timbro di cioè un fottuto marchio di fabbrica di Dario Argento ha una qualità è un marchio di fabbrica alla Dario Argento cazzo questo lo riconosci lontano un chilometro grazie Mirko detto ciò parlerò anche delle cose spiacevoli lo farò perché io questo voglio dare alle persone che mi seguono l'onestà la sincerità ma che cosa faccio qua io faccio una recensione ma per me recensione significa non significa giudicare e basta e dire recitazione è una merda regia è una merda quello è una merda per me significa vedere esattamente cosa accade che cosa accade che ci sono delle belle inquadrature dei bei movimenti di macchina come ci sono altre scene meno di qualità meno belle meno curate quindi osservare significa essere onesti e dire tutto ciò che si vede scusate mi sono denudato perché avevo caldo perdonate mi leggo qualche commento non so perché è partito partito un messaggio di streamlab è sicuramente un'estetica che è inferiore è inferiore a quella che c'era negli altri film quelli più vecchi sicuramente c'è maggiore ispirazione forse ci sono tante teorie sul fatto sul motivo per cui Dario Argento sia diciamo peggiorato qualitativamente questo è un dato di fatto è qualcosa che sia i detrattori che i fan possono notare sicuramente è calata la qualità quindi può anche essere che Argento si trovasse meglio con un certo team un team più di qualità in cui riusciva a esprimere meglio le sue doti ma questo film dimostra che le sue doti ci sono poi se voglio far muovere una critica verso il lavoro di Dario Argento con tutto il rispetto che gli è dovuto sia per l'età che per il significato che ha lui nel cinema secondo me probabilmente uno dei problemi è la direzione del cast in questa situazione cioè c'è una direzione del cast una recitazione che non è anche una selezione del cast che non non è adeguata alla caratura del regista ci voleva qualche attore di livello che alzasse il livello degli altri perché io credo che un buon attore messo di fianco ad attori meno bravi possa alzare il livello di tutto il cast perché mette il pepe al culo perché se tu fai un film e poi dici ragazzi sapete che c'è ho preso anche De Niro questi brucia il culo vanno tutti corrono subito a fare il ripasso di tutto quanto capite quindi sicuramente meritava un pochino più di dei pezzi un po' più tosti come attori che però non è che in Italia abbiamo tutto sto bouquet di scelta per cui evidentemente lui ha scelto di fare una cosa più in famiglia un po' più controllata su cui aveva più margine poi sai ci sono anche i costi e tutto la recitazione è sicuramente la lacuna di questo film la più grossa la più grossa poi non vorrei fare una recensione basata sul botta risposta di quello che ho sentito quindi scusatemi se riprendo un attimo i miei appunti che mi sono segnato due cose ma le ho scritte proprio così a caso mi sono piaciute parecchie cose che ci sono nel film parecchie che sono molto legate alla dimensione del sogno e spesso i film di Dario Argento hanno la dimensione del sogno come impronta su tutto lui spesso dice ciao ciao la dimensione del sogno è il suo marchio di fabbrica è il suo marchio di fabbrica addirittura se ci pensate tutti avrete visto un'intervista di Dario Argento lui non fa che dire ogni volta gli dicevano ma dagli anni 70 ad oggi gli dicevano Dario ma perché fai sti cose orrende orrende intese come spaventose no perché fai questi film spaventosi e lui tutto confuso come se avesse già in mente altri film da fare diceva no perché sono sono i miei incubi che mi tormentano sono i miei sogni sogni brutti sogni cupi che mi tormentano allora io sento il bisogno di quindi la dimensione del sogno non è solo nel film è la sua vita per cui per lui ciao zio carlito yes alzi la mano chi gli mancano i silvestream a me manca a me manca di brutto ragazzi poi mi spiace che faccio sempre le live nel suo orario comunque adesso non dovrebbe esserci perché è in fase di trasloco comunque se c'è meglio meglio per tutti poi me lo guardo in differita per lui è tutta una dimensione del sogno quindi questo film non tradisce le aspettative diciamo anche se io credo che uno da un regista non dovrebbe avere aspettative ma dovrebbe chiedere di essere sorpreso al massimo se proprio hai delle pretese io pretendo che tu mi sorprenda cioè che faccia qualcosa di diverso un po' come quando Lars von Trier si è inventato il dogma e il dogma era qualcosa che prediligeva il realismo assoluto quindi niente effetti aggiunti in post produzione minimo montaggio video possibile questo era il dogma le regole del dogma che si era inventato lui poi ti prende ti fa un film quello con Nicole Kidman scusate qualcuno di voi li verrà in mente il titolo quello dove c'è Nicole Kidman e tutta l'ambientazione è disegnata sul pavimento e sembra realizzato in una sorta di teatro ecco quello è la finzione per eccellenza perché non solo non è reale ma ti chiede addirittura di metterci tu Dogville bravissimo psicocine ecco non solo non è reale non è dogma non solo non è dogma ma ti chiede addirittura di inventarti tu con la mente le mura i muri delle stanze quindi che cosa fa la Svontriar che non è mica uno scemo ti sorprende ma non perché vuole sorprendere te perché fa il cazzo che vuole lui e sei tu che sei fortunato se sai apprezzare questo tipo di cosa comunque al di là di questo in realtà Dario Argento ha fatto un film dei suoi cercando di modernizzarlo e in parte c'è riuscito nel senso che secondo me il ritmo di questo film è un ritmo da film moderno non come alcuni suoi film che hanno un ritmo più lento anche se in alcuni casi scorrono di più perché hanno una sinuosità e una diciamo una perfezione che forse probabilmente questo film non ha anzi no questo film non ha quella perfezione ok comunque proprio per il discorso del sogno mi è piaciuto tantissimo chiaramente l'allegoria tra eclisse perché c'è un eclisse in quel momento che è un un annuncio un preannuncio non so mi viene la parola una come si dice quando non mi viene la parola della cecità della ragazza chiaramente è un presagio un presagio un presagio brava steffi cazzo mi è venuto proprio mentre me lo dicevi tu un presagio in realtà arriva dopo io sono indifferente quindi ciao deep from colosseum quindi bellissimo il fatto che eclisse sia un presagio della cecità della ragazza ma poi ci sono un sacco di altre cose stupende da dire su sto film che però è un film che fatichi a mandare cioè in realtà non fai tanto fatica però ogni tanto ti viene da dire cazzo peccato però eh che c'è questa battuta detta male questa interpretazione non fatta proprio bene ti viene da dire ma minchia ma cazzo cioè vi faccio un esempio con tutto il bene che gli si può volere perché a livello estetico e di faccia mi è piaciuto il bambino cinese mia fa proprio non ce la fa proprio cioè essere credibile manco mezzo secondo e questo è un peccato anche perché comunque mi piace proprio la fisionomia di questo bambino cioè mi sembra proprio un bambino attore però sinceramente tante sue battute non funzionano addirittura veramente l'Ilenia Pastorelli è viaggia spedita viaggia spedita poi vi dirò una cosa sulla sua recitazione vi dirò una cosa sulla sulla recitazione della Pastorelli perché scusate sto cercando la chat per leggere anche i vostri commenti perché giusto allora esatto tutta la linea allora su tutta la linea ho visto molte recensioni che non considerano la storia della cinematografia del argento sì esatto è come se non sapessero niente di quello che ha fatto avevano difetti come dici tu uguali identici a questi qua la differenza però è che i film degli anni 70 di Italia del argento avevano anche altre cose il direttore della fotografia era un altro interpreti c'era un altro movimento c'era la musica dei goblin le musiche di Ennio Morricone cioè ragazzi non stiamo parlando di un cazzo non stiamo parlando di niente perché se io faccio un filmino di me che vado a fare la spesa e compro due banane e cinque cetrioli solo cose falli che compro e metto sotto una musica di Ennio Morricone voi venite lì e mi fate bravo perché vi sembra una cazzo d'opera d'arte cambia tutto il contesto ma alcuni errori o sporcherie o sbavature dell'artista ci sono e sono sempre quelle non è che sono molto differenti parlarne male perché parlarne così male dice Psicocine ne parliamo anche di questo dopo non lo so non ho una spanna sopra sulla recitazione non me lo ricordo però ti credo non è difficile essere una spanna sopra a questa recitazione i doppiaggi italiani sono peggiorati tantissimo non perché i nostri doppiatori sono dei cani ma perché viene fatto un investimento inferiore sul doppiaggio e il doppiatore magari anche bravo ha meno tempo di lavorarci perché viene investito meno denaro quindi un doppiaggio più curato richiede più tempo un doppiaggio meno curato richiede meno tempo e si fa con molta più velocità quindi chiaramente ha una qualità inferiore i doppiaggi vengono adesso c'è una grande richiesta di doppiaggi ma chiaramente i soldi per il cinema sono sempre meno e quindi i doppiaggi peggiorano col tempo questa è la mia teoria è abbastanza facile immaginarselo cioè non è che sono apposta dico ci sono professionisti lì quindi se c'è un errore come c'era un errore di recitazione del doppiaggio di Texas Acenso Massacre dove hanno sbagliato a dire una parola chiave che non ti fa capire la scena non è perché sono dei deficienti è perché i tempi sono stretti i soldi sono pochi e gli errori li fanno anche i professionisti ragazzi vi ricordo che è pieno di siti con i bloopers cioè gli errori nei film e ci sono errori anche nei film di Coppola ci sono errori nei film di chiunque quindi gli errori li fanno tutti il tempo è nemico dei professionisti è amico degli errori il tempo il denaro sono fattori determinanti mi sto perdendo un po' d'assolutamente non mi aspetto che faccia film per noi anzi diciamo che il cartello mi feceva talmente schifo da saltare alla terza è in grado di emozionare Mute sono d'accordo con te ne parliamo di questo il fatto che Dario Argento con questo film dimostra che sia ancora in grado di emozionare è quello che manca al cinema italiano questa è la cosa buffa è che io ritengo che questo film comunque e qua vi spoiler il mio giudizio ritengo che questo film si salvi per il rotto della cuffia cioè per me questo film se proprio devo dargli un voto non mi piace dargli un voto ma so che voi volete un mio giudizio per me questo film raggiunge diciamo la mia personale sufficienza in quanto gradimento perché nonostante gli errori racchiude in sé delle cose preziose importanti di cui andremo a parlare tra poco e riguardano anche la capacità di emozionare come ha detto Mute sono contento che il mio pubblico per quanto esiguo sia un pubblico intelligente e sensibile perché se no qua parlerei al vento cioè perché ragazzi fuori c'è la disfunzione totale mi rido perché mi vengono in mente dei commenti alle mie recensioni uno mi ha scritto sotto la recensione in Resident Evil Welcome to Recon City mi ha scritto ti faccio l'equivalente della tua recensione in tre righe fa cagare è una merda la recitazione fa schifo cioè io volevo dirgli adesso io vedo dove abiti e ti vengo a picchiare cioè io faccio una recensione ho fatto una recensione che ha dentro dei ragionamenti delle cose interessanti anche su un film che qualitativamente non è un buon film e tu tu riduci tutto a un insulto gratuito che non porta assolutamente a nulla e infatti secondo me gli insulti a dare argento non portano assolutamente a nulla e da tutta questa situazione noi dobbiamo ricavare due cose uno capire che cosa c'è di buono in questo film e che cosa può insegnare questo film al cinema italiano ancora perché il maestro ancora insegna qualcosa e due che qui noi stiamo creando una bolla di persone completamente coscienti di vivere in un mondo folle un mondo fatto di ipergiudizio di cioè noi qua professiamo l'analisi delle cose ok noi non giudichiamo i film noi li analizziamo e quindi come le persone come le persone non sono tutte stronze o tutte buone hanno i loro lati positivi i loro lati negativi lo stesso lo sono i film lo stesso sono i film perché sono le persone che li fanno quindi di conseguenza sono figli delle persone e quindi io io professo questo atteggiamento allora scusate ma quanti cazzo di botte c'ho devo togliere un po' di roba ragazzi citazioni di Walter White non so perché sono finito indietro di 3.000 anni luce nelle intenzioni secondo me ricorda tanto fenomena o anche inferno nel senso che è della storia impostata come un incubo senza fine la protagonista non viene data a trega soprattutto nella seconda parte del film la gente è sempre stato un regista più sensazione atmosfere più che da trame vabbè qua guarda Deep Deep prendo il tuo commento che è intelligente non che gli altri non lo siano però mi ci collego bene perché dici delle cose giuste che volevo dire anch'io cioè la storia di questo film è una storia estremamente semplice e questo secondo me si dezisce parecchio invece a me è piaciuto molto come si possa prendere una storia semplice e buttarla in un film così e la storia poi fondamentalmente non ce ne fotte un cazzo solo che le persone questo le persone intente a odiare intente a insultare Argento non si sono accorte che lui non aveva nessuna intenzione di raccontarti la storia di un assassino perché chiaramente lo sappiamo che c'è un assassino c'è nel poster raga questo non è spoiler c'è nel poster si vede anche nel trailer c'è un assassino lui non aveva intenzione di raccontarti la storia di un assassino lui aveva intenzione di raccontarti la storia di Diana una escort sola come un cane una donna sola come un cane di cui non sappiamo il passato ma solo guardare la faccia dell'Illena Pastorelli ti viene da dire poverina povera donna povera ragazza ma non perché fa la prostituta allora ma perché è già tutto c'è già tutto un mondo dietro questa poveraccia e questa poveraccia si ritrova cieca ed è quello il vero incubo e lo spiega infatti ci sarà un personaggio angelico molto commovente da un certo punto di vista che è interpretato da Asia Argento che interpreta Rita che è un assistente per i non vedenti io avevo il cuore a pezzi io avevo il cuore a pezzi questa ma ragazzi ma la scena questa ragazza fa la prostituta cerco di non spoilerare fa la prostituta e diventa cieca che cazzo fa per vivere che cosa può fare una prostituta che diventa cieca fate uno più fate uno più uno si prostituisce senza vedere un cazzo lo so che sembra una battuta però io ero a pezzi io ero a pezzi non solo l'incubo vero l'incubo vero di questa cosa è quella è quella la parte thriller vera è che lei appena diventa cieca noi ci sentiamo empatici con lei a meno che non siamo stronzi che abbiamo lì il taccuino a pensare allora devo dire che questo fa cagare questo non coincide lì ho visto uno che guardava in macchina in macchina inteso in macchina che guardava nella ripresa lì ho visto un errore lì è quello quello è quell'altro no se stiamo guardando il film e ci facciamo prendere un attimo empatizziamo con con questa Diana che a un certo punto devi imparare a attraversare la strada è questo il film ma loro non l'hanno capito loro pensano ah dove cazzo sta la cosa horror l'intrigo la setta non so mettici qualcosa mettici demoni che cazzo ci deve mettere ragazzi è quello lì è quello il vero thriller diventare ciechi è quello il vero thriller e diventare ciechi in un mondo che già non ti vedeva il mondo e ora sei tu che non vedi più il resto del mondo questo non l'hanno capito infatti come dicevi tu Deep è proprio questo che ci regala un sogno un sogno mezzo incubo mezzo sogno molto commovente che poi abbia i suoi difetti sono d'accordo d'accordissimo gli darò un'altra possibilità è un film non so a quale ti stai riferendo scusa stavo già per partire in quarta maledetto stream element si è messo a spammare roba troppe testi di cazzo nel web concordo l'argento costruisce molto bene l'empatia sono d'accordo l'organizzazione dell'argento sta anche nello scegliere i protagonisti poco ordinari ci sono parecchie dissolvenze si 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 ci sono una marea di dissolvenze ci sono una marea di dissolvenze che è la cosa bella del cinema che tu ci puoi leggere un sacco di cose in queste dissolvenze sono dissolvenze a nero che si usano di solito si usano pochissimo perché sono molto spengono spengono la l'attenzione che tu hai in quel momento proprio ti fanno fare così quindi sono molto rare di solito non si usano così tanto invece lui ne ha usate parecchie e ci si possono leggere una marea di cose una marea di cose io ci vedo qualcosa di mortifero dietro a queste dissolvenze cioè quasi un messaggio di morte come se la vita fosse un sogno che quando ti svegli muori e viceversa e lui ragazzi considerate che ha 81 anni ha 81 anni le persone non fanno mai il ragionamento di mettersi nei panni degli altri per vedere come pensano come ragionano ve lo dico io ve lo dico io perché io non ne ho 81 ma ne ho 45 sono riduce da tre dicessi di persone care ecco voi immaginate se uno arriva a 40 anni iniziano a morire un po' di persone se non è lui a morire ti è ma se arrivi a 81 di gente che è morta che ti è morta accanto ce n'è tanta non so se alla morte ci pensi tanto ci pensi tutti i giorni ci penso io tutti i giorni perché sono riduce da dei lutti che spero poi potrò diciamo non pensarci più così tanto e continuare la mia vita e non pensare così tanto alla morte io adesso ci penso costantemente voi pensate a una persona di 81 anni che ha decine di amici morti parenti la moglie la mamma di Asia Argento è morta nel 2020 addirittura non lo posso dire questo perché spoiler una cosa che riguarda Asia Argento nel film che accade chi lo sa è una cosa che insomma non ve lo dico comunque alcune dissolvenze pre-incidente come presagio della cecità presagio la cecità ma la cecità stessa non è la morte non è un'allegoria della morte la cecità la morte della morte del mondo che conosci è un film interessante purtroppo purtroppo mi sento di però mi sembra giusto dirlo purtroppo mi sento di dire che il film commette delle ingenuità che sono molto lesive per l'esito finale per l'intrattenimento perché poi in realtà è anche un film che galoppa che ti tiene abbastanza col fiato sospeso perché proprio perché come dire empatizzi con Diana così tanto che inizi a correre con lei la tieni per mano ecco mi sembra mi è sembrato quasi di essere io il bambino cinese che la tiene per mano e la porta in giro e le dice attenta non cadere attenta a non sbattere lì quella è la è la sensazione che tu hai da spettatore ma chi cazzo lo fa in Italia un film così ok c'ha dei difetti che sono anche un po' a volte veramente grotteschi ma chi cazzo ti fa un film che crea un'empatia del genere o che crea un personaggio così sensibile così emozionante così indifeso così che tutti vorremmo proteggere io io sfido io se becco uno che mi dice no a me l'Ilenia Pastorelli in quel ruolo lì mi stava sul cazzo e io do una testata perché vuol dire che sei un pezzo di merda perché è uno scriccio è una una persona da proteggere è l'emblema della ma a parte il fatto che ci ho visto anche comunque una sorta di messaggio positivo nel senso che è un film che mi dice aiuta gli altri aiuta le altre io ci ho visto quello ci ho visto una persona di 80 anni che mi dice dobbiamo aiutarci ci sono persone che tu magari giudichi male perché fanno la prostituta o che fanno quella e che però invece sono come te che hanno bisogno di aiuto e che sono sole cioè io questo ci ho visto veramente un messaggio estremo cioè che non ma che cazzo ma che film ci sono in Italia ragazzi cioè allora quindi per me Argento è riuscito a fare un film che ha una pienezza emotiva non solo ha una pienezza emotiva ha anche un'educazione emotiva cioè è un film educativo è un film che sprona gli animi dove cazzo lo trovi un film così cioè per quello io ritengo che Argento torna a insegnare a fare cinema con tutti i suoi mega errori e mega veramente scivoloni che ci sono poi detto ciò detto ciò lo dico veramente sarà che io dalla pastorella mi aspettavo una recitazione tremenda che non mi ha non mi ha dato così fastidio poi qualcuno potrà dire ma in realtà voi sentite che lei parla è un po' coatta perdonatemi il termine non mi viene un modo più gentile di dirlo ha un po' questo tono questa parlata popolare romana e lei è così però è così se poi la testa sul cazzo perché lei è così è un problema tuo però io non ci vedo niente di strano cioè interpreta un personaggio non io non credo nella nella dizione nella nella recitazione nel senso che sì mi piace un attore che ha una buona dizione e mi fa Shakespeare ok va bene quello che vuoi ma per me uno può essere un bravo attore anche con tutta la sua inflessione dialettale della sua provenienza sinceramente anzi mi sembra molto più real molto più popular molto più reale attività alla realtà se sei diretto bene e se hai recitato bene il ruolo non so se mi seguite su questo ragionamento ribadisco scene bellissime c'è una scena con i serpenti ragazzi che è una meraviglia è una meraviglia è una meraviglia che te proprio che mi veniva da far così via 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 mi veniva da era un incubo era un incubo la scena dei serpenti stupenda infatti me lo sono segnato qua meraviglioso incubo dei serpenti non sono veri sono incubo allora parliamo di asia argento tasto dolente tasto dolente asia argento mi ha fatto mi ha sempre fatto paura come donna cioè proprio fisicamente sempre mi sembra proprio una che se la fai incazzare ti da un pugno in faccia quindi cercherò di parlarne male bene spero non incontrarla mai se no mi tira un pugno in faccia io penso ho sempre pensato che non avesse le qualità proprio avesse veramente poche qualità per far l'attrice non la trovo non l'ho mai trovata a portata ha una ha una cadenza la sua voce che non mi è mai piaciuta forse è anche un problema mio forse è un mio difetto ma io sento che molti dicono comunque che non piace la recitazione di asia argento secondo me non ha mai dato grandi prove di bravura per dirla dolcemente ecco qua è meno peggio di come l'ho vista in altre parti per me non so se potete condividere questo non significa che la sua prova è salva come recitazione significa che è meno peggio di quello che pensavo meno peggio il suo ruolo mi è piaciuto il suo personaggio mi è piaciuto come si comporta eccetera non l'ho capito veramente non l'ho capito un 5 insomma sì anche se non mi piace dare il voto numerico perché è molto opinabile nel senso tu dai un voto a 5 a 1 poi ne dai 5 a un altro che invece è stato meglio ti incarti diciamo è come dare è come dare 5 a Shining 5 su 5 a Shining le stelline classiche della recensione poi ci sono altri film che magari sono capolavori cosa fai dai 6 le stelline sono finite non so Shining è un capolavoro ma non è l'unico capolavoro e forse non è il miglior film del mondo allora se tu hai già dato il massimo a Shining che cazzo fai poi i numeri sono sempre cioè le votazioni sono sempre state un problema perché sono giudizi troppo netti diciamo 5 per la recitazione in questo fine rispetto alle altre recitazioni diciamo che comunque preferisco non dargli il voto inteso di recitazione per me non è una buona recitazione quindi non spicca in bravura però è meglio di altre altre volte è meglio di altre volte a me l'aspettavo mi aspettavo qualcosa che io non avrei apprezzato totalmente invece secondo me la tira via però comunque anche questo non è un complimento ragazzi cioè non è che sto dicendo purtroppo per me la recitazione di Asia rimane sempre molto poco soprattutto la recitazione verbale la sua inflessione non riesco a sentire però forse anche conoscerla è un altro tutto un altro tutto un altro cioè bisogna anche vedere come è lei nella realtà magari lei è così quindi in realtà allora si sta comportando in un modo realistico non so è un ragionamento contorto il mio però ecco quello che io non voglio fare è insultare le persone cioè io non voglio insultare fia esatto paura di essere picchiato non voglio insultare ma io comunque anche se fosse capito un nanetto alto un metro che non mi può far niente non voglio insultare le persone cioè se penso che non sia una buona recitazione dico semplicemente che per me non è una buona recitazione punto mi rendo conto che per un un artista non è piacevole sentirlo ma sarà sicuramente più felice di sentirselo dire in questa maniera che sentirsi dire sei un cane maledetto che poi non è vero cioè è molto più lontano dalla verità dire sei un cane a recitare che è quello che dico io perché dire sei un cane a recitare è un'estremizzazione che veramente non vale per nessuno perché il cane non sa recitare niente non sa neanche ripetere le parole quindi sarebbe un'estremizzazione falsa per questo che detesto gli insulti perché sono dei giudizi non attinenti alla realtà è come dire fa cagare non è vero che un film fa cagare fondamentalmente se no i cinema sarebbero dei posti da un odore terribile non so se mi sono spiegato e rispetto rispetto quasi ma sì ma 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 sì ma quella è una parodia cioè è una parodia che secondo me ironizza sia sull'attore non bravo che lui definisce una cagna o cane o cagna non mi ricordo ma è anche una parodia di se stesso perché ricordatevi che in Boris alla fine lui è un fallito è un fallito che si lamenta dalla colpa agli altri di quello che è cioè è autoironia anche è l'autoironia fondamentalmente è The Office Boris ragazzi cioè non è che cambia molto l'insulto è per superare la non argomentazione infatti all'inizio ho detto all'inizio di questa live ho detto ho sentito insulti sul film dei detrattori e gli unici che invece hanno esposto le qualità del film sono delle persone che hanno scritto recensioni io invece quello che sto provando a fare spero di riuscirci è parlare sia delle cose positive che delle cose negative parliamo della musica non sono un esperto di musica la musica è di Arnaud Rebottini allora qualcuno l'ha definita una musica che cita i Goblin forse alla lontanissima io ci ho visto ma proprio non lo so io non tanto ce l'ho visto sì c'è un tentativo di fare delle cose che hanno un ritmo con una cadenza c'erano dei motivi dei Goblin che erano così questa è una musica elettronica più secondo me poco emozionante da un punto di vista della melodia cioè i Goblin avevano quelle melodie ma anche Morricone ha le melodie anche se lui pare che odiasse le melodie però ce l'aveva alla fine questa ha meno melodie infatti non c'è nessuna musica che ti rimane in testa però al compenso fa il suo nel senso che a livello di ritmo riesci a dare delle cadenze nei momenti giusti a essere abbastanza angosciante e spingere un po' aiuta il film a calcare la mano su alcune cose quindi a livello di funzione a livello di funzione di supporto emotivo alla pellicola funziona a livello di musica in generale diciamo che non mi è piaciuta non mi comprerei il vinile ecco non mi comprerei il vinile ad ascoltare in quel senso però a livello di musica suonata come accompagnamento proprio delle scene thriller scene di inseguimento eccetera devo dire che funziona molto bene secondo me da quella da quella cosa poi ragazzi il povero Arnaud Rebottini con tutto il rispetto che mi sembra che abbia fatto un ottimo lavoro cazzo come confronto c'ha i Goblin e Neo Moricone cioè chi cazzo deve fare già tanto che ho già un miracolo che si è uscito vivo secondo me cioè i Goblin che qualcuno che qua viene dal canale di Enrico che sa sicuramente chi sono i Goblin non chi sono i Goblin nell'horror chi sono i Goblin in generale nella musica che sono un gruppo fondamentale che ha fatto evolvere anche un po' il rock progressivo e tutte queste robe qua insomma che ci spieghi insomma chi sono i Goblin perché io non lo so spiegare ma so che hanno fatto cose importanti poi Morricone non c'è manco bisogno di dirlo insomma è il nostro Beethoven fondamentalmente è Claudio Simonetti è un Dio grazie al K mi è piaciuta mi è piaciuta grazie al K mi è piaciuta e mi viene da dire anche se non sono esperto di musica che Ennio Morricone è praticamente un altro dei geni della musica che l'umanità ha avuto insomma si può dire tranquillamente che fortunatamente per gli amanti del cinema si è dedicato a questa arte gli effetti speciali sono di Sergio Stivaletti che conoscete già collega di Dario Argento perdonate mi metto un minimo di sottofondo musicale perché mi fa sentire un uomo più felice mi è piaciuto molto il primo omicidio non ve lo spoilerò mi è piaciuto molto gli effetti realistici gore proprio belli violenti qualcuno li recrimina qualcuno recrimina su alcune recensioni di essere fanno le stesse critiche che gli facevano all'epoca cioè caro Dario Argento fai già lì thriller ma non sei sofisticato perché stai troppo sul sul taglio sulla ferita stai lì a osservare la ferita a osservare il sangue che sgorga ma che cazzo gli fate le critiche che gli facevate 50 anni fa gli fanno le critiche che gli facevano 50 anni fa di nuovo tipo le riciclano quindi mi sembra una stronzata cioè è famoso proprio per quello perché i suoi gialli sono gore perché i suoi gialli sono cattivi sono violenti sono mostrano la ferita mostrano il sangue mostrano la testa tagliata cose del genere quindi niente bella quella bella anche la la scena finale super gore non vi dico qual è molto molto retro come dire molto retro alcuni accoltellamenti che ci saranno mi sono piaciuti però anche se non troppo realistico quello ecco alcuni forse se non sbaglio alcune armi alcune lame non erano molto realistiche ecco sembravano un po' finte ecco queste cose ragazzi 2022 figa facciamole bene ecco un po' un grande dispiacere di questo film è che secondo me a livello tecnico se fossero state messe a posto delle cose veniva fuori veramente una roba da da ovazione cioè forse forse era un film in cui bisognava dedicare un po' più tempo e fare anche un po' più di autocritica no e dire ok ma cioè vogliamo tornare alla grande invece è stato fatto secondo me un po' forse come le facciamo una volta insomma come viene viene insomma un po' più di cura ce l'avrei messa ecco ragazzi io volevo sentire intanto se avete delle non so se ho detto tutto riguardo al film a me è piaciuto a me è piaciuto nel senso che non vorrei non averlo visto cioè sono contento che sia tornato penso che dal punto di vista della regia e del contenuto abbia ancora da insegnare ma cazzo ma guardatelo ai registi italiani perché non avete un cazzo da raccontare invece questo con quattro righe di una storia di assassini cioè ci ha riempito il cuore ci ha dato un sacco di messaggi ci ha regalato un piccolo sogno poi sì è rozzo è rozzo in alcuni punti forse soprattutto forse solo ed esclusivamente è rozzo per questo per questa per questa storia della recitazione del doppiaggio perché forse è l'unico vero grande difetto tutti gli altri che vengono definiti difetti sono in realtà lo stile argento quindi mi sembra proprio che la gente parli un po' a vanvera ma io tra l'altro io non sono neanche non mi ritengo assolutamente un conoscitore di argento e ve ne parlo perché sono elementi che si vedono sono sotto gli occhi di tutti potreste anche solo guardare i trailer per rendervi conto di queste cose e se è vero che ci sono alcune sceneggiature che sono molto più complesse rispetto a questa che è una sceneggiatura che forse al thriller all'intrigo dedica meno a una sceneggiatura più semplice però è vero anche che è un altro dare argento un dare argento molto più sensibile che ha dato che ha sorpreso da un certo punto di vista nel senso che ci ha raccontato la storia di una persona cieca invece che la storia di un assassino cruento cioè l'assassinio l'omicidio è marginale in tutto il film il sangue che c'è è marginale cioè a noi quello che rimane è sempre comunque la storia della cecità di questa ragazza questo è quello che rimane a me che mi è rimasto sempre per cui è un film che io valuto abbastanza bene non mi fa gridare al miracolo perché il miracolo poteva esserci forse se argento ma quello dipende anche da una serie di cose ragazzi dipende anche da quanto budget ha il film mettiamo sul piatto che magari è stato fatto con poco cioè noi non le sappiamo queste cose però è chiaro che argento con la possibilità che cazzo ne so visto che ha fatto il film con Gaspar Noé dice guarda Gaspar vieni a farmi sapete che lui ha recitato nel nuovo film di Gaspar Noé che deve uscire vieni a farmi la aiutarmi che cazzo ne so già ti trovi due o tre collaboratori di livello e fai un altro film che ci c'entra e lo stile comunque argento c'è è il suo stile cioè non glielo togliete e c'è più stile in questo film che in dieci film usciti G.Crobogi qua cioè con tutto il rispetto e tutto il sostegno il tifo che io posso fare per il cinema di genere italiano qua c'è stile c'è lo stile c'è lo stile che cazzo proprio perché parlo di stile e ora mi metto un po' di rap sinceramente a me che sia rozzo e rudimentale negli effetti speciali non dispiace l'unico vero difetto secondo me sta nella qualità degli attori esatto ciao Henry sì sì su quello infatti è stato il suo il suo grande piede in fallo cioè proprio è caduto in un errore tra l'altro che lui conosce bene perché non è la prima volta che ha problemi di questo tipo e comunque quando sento parole d'argento ho sempre la sensazione che non gli si perdoni il successo che ha avuto forse perché maggiore di quello ha ottenuto da gente come Fulcebava ma allora secondo me in Italia non si perdona il successo a nessuno che sia meritato o immeritato non gli si perdona né successo né niente non so perché che è l'unico che riesce a essere perdonato per ogni cosa è Berlusconi Berlusconi è perdonato per essere andato con una minorenne è perdonato per gli inciuci con le mafie è perdonato perdonato per i processi tutti ma non perdonato nel senso a livello di tribunali è perdonato a livello di barra cioè vai nel bar e povero Silvio infatti vedi anche Thomas lo perdona cioè ormai ormai ma quello è un mago è un mago della manipolazione ormai gli si vuole bene talmente è stronzo è come un fratello strozzo a cui alla fine gli vuole bene lo stesso cioè ti affezioni persino al marcio che c'è in Italia in Italia c'è questo accanimento povero Silvio citavo il comic c'è questo accanimento con Dario Argento quando come dicevo all'inizio della live moltissimi registi attuali citano Dario Argento Mario Bava Lucio Fulci come le fonti assolute ma Quentin Tarantino in primis cita questi registi qua e Dario Argento per lui sono degli idoli lui li ringrazia lui e tanti altri ringraziano Dario Argento Bava e Fulci perché grazie a loro hanno scoperto che possono osare perché che cosa che cosa fa che cosa fa Dario ma anche richiamo come se fossero i miei amici Lucio Dario Mario cosa fanno osano come dei pazzi osano come dei pazzi cioè fanno delle cose che vengono considerate Ichco che era un fan di Argento figurati questa non la sapevo però ti credo sulla parola e mi mi fa veramente mi fa piacere perché ma per forza di cose ma per forza di cose perché vedi quella maniera di far cinema così sperimentale che adesso la sparo la sparo veramente grossa ragazzi perché stiamo parlando di un regista che io non amo però per farvi capire io quanto amo l'amore per il cinema e gli intenti del cinema io penso che questo tipo di atteggiamento sperimentale legato al cinema di genere e il cinema di intrattenimento sia una caratteristica anche di James Wan cioè anche James Wan che io non amo perché io non amo i soggetti dei suoi film non è che non mi piace la sua regia non mi piace il soggetto cioè i decongioli sono dei soggetti insulsi non succede una fava ma lui è un grande sperimentatore e osa e fa dei pasticci ogni tanto che a me mi viene da dirgli ma bravo ma bravo perché se voi guardate Dead Silence no Dead Silence quello della Mary Show dei pupazzi e tutti i cazzi che è una roba da cringe che ti viene la pelle d'oca quando dicono la filastroca è veramente una roba da congiuriani fuori di testa però se pensate al finale di Dead Silence con questi manichini adesso non dico per non spoglierare troppo è una roba meravigliosa una roba che a me mi ha fatto venire in mente Lucio Fulci mi ha fatto venire in mente pensate l'associazione l'effetto speciale che Fulci fece in non si servizia un paperino quando il prete cade giù e c'è questo fantoccio meccanico che si scorta è stato costruito tutto una roba super rudimentale ma che poi alla fine l'effetto è bellissimo ecco James Wan fa la stessa cosa c'è sperimenta osa sbaglia fa anche delle cose trash lo stesso Malignant ha dei momenti che toccano dei livelli ogni tanto dei livelli di trash però quando uno osa tanto rischia e poi fa una cosa che alla fine la porta a casa ha vinto alla fine è importante vincere la partita non come è giocato in certi momenti ecco vincere la partita è una metafora che secondo me ci sta cioè conta il succo la sostanza e fai bene a dire non mi interessa se l'effetto speciale il sangue di Dario Argento dei film che noi riteniamo dei capolavori noi riteniamo i film di capolavori dei film di Dario Argento perché ce lo dicono le alte autorità per questo non perché noi ne siamo convinti perché ci dicono che deve essere così è una cosa che si consolida e basta però il sangue di Dario Argento sembra vernice che compro per dipingere la porta se lo facesse qualcuno oggi il sangue come rosso come come la scritta qua questa qua questa qua o questa qua di Life of the Dead se la facessi così il sangue mi prenderebbero tutti per il culo oggi eppure sono dei capolavori perché conta alla fine il risultato l'effetto il cuore il senso della storia il potere emotivo che ha la storia sono film ricchi di emotività i film di Dario Argento ricchi di passione e anche questo è un film che ha passione per questo che nonostante sia imperfetto ha da insegnare agli altri film disse questo giovane ragazzo italiano mi preoccupa aveva sempre una grandissima ironia Hitchcock a me piacerebbe avere un Hitchcometro cioè una macchina che mi che mi dia un pensiero di Hitchcock su ogni cosa trattiamo su ogni argomento che trattiamo mi piacerebbe avere il suo pensiero schiaccio il pulsante e l'Hitchcometro mi dice mi dice la sua purtroppo però l'abbiamo perso i grandi li abbiamo persi ragazzi approfitto per bere un po' d'acqua e scusate parlo da un'ora c'ho la gola che mi sta e nel frattempo vi ricordo che potete abbonarvi al canale se volete essere miei amici no non è vero non saremo amici con così poco per essere amici dovete farmi un bonifico sostanzioso ma comunque essere mia amica non serve assolutamente a un cazzo perché sono molto cattivo con i miei amici pausa pausa invece una cosa interessante secondo me c'è un errore di valutazione di alcuni che parlano di buchi di sceneggiatura però questa è la mia valutazione magari posso anche sbagliarmi perché poi la storia magari rivedendola l'analizzi meglio secondo me il film questo film qua non è un film che ha buchi di sceneggiatura che poi buco di sceneggiatura è un termine misterioso che nessuno sa bene cosa voglia dire però se lo intendiamo come un'incongruenza nella storia quindi un'incongruenza che crea una cosa impossibile che non può accadere quello se inteso così secondo me in realtà questo film non ha buchi di sceneggiatura ha delle cose che possiamo definire forzature forzature un po' frittolose perché effettivamente Dario argento non si è concentrato sulla storia si è concentrato sul sentimento si è concentrato sul sentimento e comunque nella sua dimensione di sogno un po' di illogicità è abbastanza coerente secondo me però io non ci vedo dei buchi di sceneggiatura ci vedo delle diciamo una forzatura cioè nel senso che alcune cose sono plausibili ma un po' un po' frettolose spinte un po' cioè senza crearne una causa effetto che sia logica ma semplicemente accade e basta quindi questo è alla lunga può essere percepito come fastidioso dallo spettatore però diciamo che non la storia non mi sembra illogica qualcuno vabbè non posso andare oltre perché se no spoiler però motivazioni che ci sono dietro i personaggi secondo me sono assolutamente plausibili anzi più le motivazioni sono assurde le motivazioni per cui uno uccide perché uno fa una cosa e più secondo me sono attinenti alla realtà perché evidentemente le persone che criticano questo tipo di scelte ciao Red sei arrivato preciso preciso alla fine della mia recensione di di occhiali neri cioè chi pensa che questi movimenti queste azioni che che nascono dai personaggi siano illogiche non apre i giornali evidentemente perché io vedo delle cose assurde sui giornali cioè vedo delle follie che sono molto peggio di quello che per me l'illogicità delle azioni è assolutamente realistica cioè sì 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 ma infatti è molto molto di attualità è molto di attualità cioè la follia piuttosto che la passione o che adesso non voglio dire altri elementi perché sennò spoilerò le motivazioni la banalità del male bello 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 mi piace bravo bravo bello la banalità del male che il male e questo è anche un bel aspetto di questo film però non vorrei andare oltre perdonatemi perché sennò diamo troppi elementi a chi non l'ha vista quello che voglio trasmettere al di là del classico rispetto per un regista che ha 81 anni tu devi porca puttana devi stare zitto non ti devi permettere di prenderlo per il culo cazzo cioè ma ti rendi conto il maestro dell'orro però